Io partirei assolutamente dal concetto complessivo di mobilità della città che va letto sia in termini di pianificazione attraverso il PGTU che ormai è in dirittura d'arrivo, se tutto va bene nel mese di settembre sarà per l'approvazione definitiva in consiglio comunale visto che abbiamo avuto l'ok della regione per la valutazione ambientale strategica e quindi una chiave di lettura complessiva della città che ha visto come primo passaggio l'approvazione dei 15 parcheggi di interscambio che oggi sono realtà e sono già tutti cantieri in divenire. Questo è il primo passaggio, poi a seguire andremo a comporre tutte le tessere del mosaico complessivo che è a regia PGTU prima e PUMS subito dopo. C'è chi ritiene che la realizzazione di questi parcheggi, c'è chi evidentemente ha una visione diversa, in alcuni luoghi della città come sulle Viale Europa sia un incentivo a far arrivare i cittadini fin dentro la città e quindi sarebbe un progetto un po' in contrasto con l'idea invece di rendere il centro più libero, cosa risponde? Io ritengo che per poter comprendere dei meccanismi bisogna leggere il libro dalla prima all'ultima pagina, pensare di comprendere il contenuto del libro attraverso le immagini o attraverso la lettura di una pagina risulta molto difficile. Come ben lei sa, proprio riferendomi ai parcheggi oggetto di contestazione, quelli di Viale Europa, sono lungo la direttrice dell'uscita di Messina Centro e quindi il posto più adeguato per drenare il traffico per il centro città. Ribadisco, se la lettura non è complessiva della città diventa difficile capire a cosa servono i parcheggi. Aggiungo che questi parcheggi collegati con un sistema di PL funzionante e sapete che ci stiamo spendendo parecchio in merito sia rafforzando la flotta di bus sia potenziando il sistema tramviario che è poi l'asse portante del sistema della mobilità tutto questo messo al sistema è evidente che poi porterà a risultato. Aggiungo, il centro città nel momento in cui sarà disciplinato, come ho già detto, dal PGTU e quindi con le ZTL reali e non con i parcheggi a pagamento come oggi, è evidente che nel centro città le macchine diminuiranno in maniera significativa e sostanziale. Quando vedremo in centro città una vera isola pedonale? Oggi ci dobbiamo accontentare soltanto di alcune aree chiuse, manca un progetto più complessivo? Stiamo lavorando anche in questo, scusate la ridondanza, il tutto discende dallo strumento di pianificazione ottenuta l'approvazione dello strumento di pianificazione si partirà con le isole pedonali strutturali cioè significa che saranno delle vere e proprie isole dove poi si potrà avviare una vera progettazione andare a chiudere una strada temporaneamente e pensare di spendere dei soldi sarebbe limitante invece avendo una pianificazione a monte è possibile ipotizzare progetti e quindi pianificare in maniera strutturale quelle che sono le isole pedonali.